Oddio, che cosa gli ha fatto? Mi gira la testa. No, mi serve l'ultimo attività. Quanti al turchi del senso? La testa. Liagata! Del patientno. Non fortera. Cosa gli attrima che stai endot Tahiti. Devo riuscire a spingerla a tutte le canarie. Grazie per la visione! 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 Dobbiamo provare! Farò il possibile, ma dobbiamo mettere fine a tutto questo, Nadia! Amina, gotteata! Cosa? Cosa? No, no, no. 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 No, no, no.